Il Milan ha grandi problemi economici, per questo non potrà iscriversi alla prossima Serie A e sarà costretta alla retrocessione in Serie B. Inizialmente il Milan è costretto a vendere tutti i suoi top player, compreso Mignan, Theo Hernandez e Leao. C'è solamente una persona che può salvare questa squadra, ed è Zlatan Ibrahimovic, che però vuole ricostruire a modo suo. Abbiamo 5 stagioni per ricostruire il Milan, riportarla in Serie A, sul tetto d'Europa, potendo acquistare solamente svedesi. Il primo colpo arriva sulla panchina. Il nuovo allenatore sarà infatti Kim Helberg, allenatore dell'Ammerby, altra squadra di cui Ibrahimovic è proprietario, almeno in parte. Potremo fare solamente due acquisti per sessione di mercato estiva e finché restiamo in Serie B potremo acquistare solamente da leghe minori o da altre Serie B. Poi dopo faremo la media overall della squadra. Prima di proseguire, ti sei iscritto al canale? No, perché più del 40% di voi guarda i miei video senza essere iscritti. A voi non costa nulla e mi supportate tantissimo. Una volta venduti tutti, questa è la squadra che ci troviamo davanti. Molto debole, forse anche troppo debole per la Serie B. Il portiere 56 di overall è veramente un problema. Ma abbiamo altri due problemi in questo 11. Abbiamo due posizioni scoperte. Il terzino di sinistra e il centrocampista centrale. Ah sì, e sulla destra ci sarà Romero, non Terracciano. Terracciano quest'anno l'ho già provato, Romero non ancora. Sarà lui molto probabilmente la nostra punta di diamante. Ma non fa nessun upgrade alla di destra, però io comunque lo trasformo. Abbiamo poi Bartesaghi, che è un terzino di sinistra, ma la difensore centrale fa un bel upgrade. Dovrebbe tecnicamente fare più due. Da 64 passa a 66. Questa è tanta tanta roba. Sono molto curioso di scoprire insieme a voi la crescita di Alex Gimenez. Potrà sorprenderci? Occhio è, la squadra non dovrà essere full svedese. Quando dobbiamo andare a rinforzarla, dobbiamo andare ad acquistare solo degli svedesi. E quindi ecco i primi nomi. Samuel Dahl, osservato speciale anche della Roma nella realtà. 20 anni, 69, terzino di sinistra del Dürgordens. È sicuramente lui il rinforzo che fa per noi. Offriamo 4 milioni alla squadra svedese, che accetta. Ha degli ottimi dati di movimento, ma fisicamente fa un pochettino di fatica. A questo punto serve un centrocampista centrale, ma Svedberg gioca nel Celta Vigo. Quindi non possiamo prenderlo, perché non è una Lega minore, ma soprattutto non è una Serie B. Per questo ho inserito o Pontus Dabo, che molto probabilmente però fa upgrade da trequartista o da ala. Potrebbe essere sicuramente una bella scommessa. Se no, si potrebbe provare a puntare su Ondreika. Messo trequartista, ma a quel punto giocheremo con due trequartisti. Secondo me Dabo potenzialmente potrebbe crescere di più. Ma proviamo a prenderlo, dai, proviamo. Facciamo sta pazzia. La prima stagione, ce la faremo tanto, vero raga? Un milioncino portato a casa, andiamo a scoprire dove fa l'upgrade. Porca miseria, è da trequartista ragazzi. Ha 17 anni tra l'altro, quindi dobbiamo per forza cambiare il modulo. Facciamo così, con Zeroli che mi agisce comunque la centrocampista centrale. E poi Maldini e Pontus Dabo. Sarà durissima ragazzi, perché la nostra società ci chiede di vincere la Coppa Italia e di vincere il campionato di Serie B. Però non credo di riuscirci. Andiamo a vedere subito la prima parita contro il Palermo come va. Fuori, sconfitta per 3 a 0. Pronti per il cambio ruolo di Pontus Dabo? Da 61 passa a 65 più 4 punti overall. E a questo punto un ragazzo di 17 anni con 65 di overall ci fa godere. Questa dunque è la nostra formazione finale per questa prima stagione in Serie B. Ai 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 ragazzi, overall allenatore molto basso. Probabilmente rischio esonero. Quanto siamo arrivati in classifica? Secondi. Dietro alla Salernitana con la quale abbiamo perso all'ultima giornata. Ma comunque avremmo perso il campionato. Oh, porca miseria. I ragazzi sono cresciuti. I ragazzi sono cresciuti dal 77 più 8 punti overall. Ma ragazzi, è successo qualcosa nella crescita? Pellegrino 74 più 5 punti. Bartesaghi più 8. Gimenez più 9. Zerole più 6. Ma che crescite sono? Maldini è diventato un 76. Dabo più 11. 17 gol e 8 assist per lui. Il racciano ha chiesto di essere ceduto. Ah, mi tocca farlo. C'erano mi esonerano. Traoré più 6. Romero più 6 diventato un 78. L'Azlic più 6 è diventato un 71. 12 gol e 8 assist. Oh, raga. Però siamo in Serie A il prossimo anno. Sarà un delirio, ma siamo in Serie A. Per quanto riguarda la seconda stagione, ci viene chiesto di terminare metà classifica nella Serie A. Io, ragazzi, sono sconvolto da questi obiettivi. Ho paura di non riuscire a portare a casa questa challenge. Essendo che siamo in Serie A, per fare calcio a mercato dovremo fare la media overall dei nostri 11 giocatori in campo. La media è 74, quindi potremmo acquistare i giocatori con un overall pari a 74. Dove si potrebbe andare a rinforzare la squadra? Sicuramente il portiere potrebbe essere un ottimo inizio, perché Vasquez ha 26 anni. Dato che l'Azlic l'ho già utilizzato tante volte, andrei a prendere anche un'altra prima punta. Per quanto riguarda la porta, faccio una follia totale. Se scambio con lo Spezia, Vasquez per Oliver Dovin, che ha un overall più scarso di 5 punti. Ma ha anche 4 anni in meno. L'idea è che in questa seconda stagione Dovin cresca parecchio. Solamente il destino dirà se ho fatto la scelta giusta. Dovin che ci mette 14 settimane per salire alle 69, ma la stagione non è ancora cominciata. Queste erano le alternative per la porta. Zetterstrom però non è un granché, quindi teniamo d'occhio Johansson. Per quanto riguarda l'attacco, invece, ero molto molto interessato a prendere Almquist. Per quanto riguarda l'alala di sinistra, ma a noi ci serve una prima punta. A Minzar, meh... Willemson, l'avevamo provato in un nuovo mercato challenge con il Darmstadt, che vi invito a recuperare. E poi chiaramente Erabi. Però secondo me, per fisicità e caratteristiche, Willemson potrebbe diventare l'attaccante trascinatore di questo Milan. Un bello svedesone là davanti. Pagliamo la clausola di recissore di 5.8 milioni. Crepi l'avarizia. E gli facciamo il contratto. Vi sarete resi conto che già la seconda stagione è difficile andare a fare degli upgrade, potendo acquistare solamente da questa nazionalità. Quindi, mentre mettiamo il piano di crescita a Willemson, che fra sei settimane diventa un 72, è possibile che i prossimi anni andremo ad allungare semplicemente la rosa con degli svedesi. Anche perché servono le seconde linee, che per il momento sono veramente, veramente scarse. E non so se riuscirò a salvarmi in questa serie A. Per fortuna che c'è Dal, che sta crescendo tantissimo. Anche il fisico è migliorato, 66. Decisamente un bel finale di stagione, tre vittorie consecutive. Ma dovessimo andare a vedere tutti i risultati di tutti i big match. Ragazzi, abbiamo preso delle svettole clamorose. A partire dal 2-0 contro l'Inter. Ma guardate il 7-2 contro il Napoli. Non siamo assolutamente pronti per giocarci le prime posizioni. Siamo arrivati comunque ottavi. Oltre la metà classifica ci siamo comporati bene. 68 gol fatti, 74 subiti. Ne abbiamo presi veramente, veramente tanti. Questa è la nostra formazione. E sicuramente il fatto di non aver ottenuto dei risultati positivi ha fatto bloccare qualche ragazzo. Per quanto riguarda Dovin, però, sono abbastanza contento. Più 4 punti overall. A 22 anni è un 72. Non ha un overall alto. Ma fra una settimana diventa un 73. Quindi direi per il momento scommessa vinta. Più 3 punti overall per Dal. A 22 anni è un 81 molto bene. Pellegrino invece, a 22 anni, è un 76. Due punti overall. E non dico che si sia bloccato, ma quasi. Mi fido ancora di Bartesaghi. Ha 19 anni, è un 76. Si fa un bel più 4 di overall. Sono decisamente soddisfatto. Jimenez, più 7 punti overall. Lui, tanta roba. Contentino di Zeroli. Il prossimo anno cercheremo un altro centrocampista centrale. Qua sulle tre quarti invece Maldini, che credo non cambierò più. E Dabo se la son cavati alla grande. 17 gol e 11 assist per Dabo. Ciacca Traore è diventato un 79. Luca Romero un 84. Tanti gol segnati. Qui davanti, invece, Williamson, a 21 anni, è diventato un 76. 15 gol per lui. Ma l'Azetic, in presto al Villareal, è diventato un 77. Più 5 punti overall. Ma se giocassimo con le due punte? Ci vorrebbero dei centrocampisti centrali, ma non possiamo. La terza stagione si apre con questa sorpresa. Jimenez, tra una stagione e l'altra, ha fatto due punti overall. O sbaglio? Non era 80. O mi sono fumato qualcosa? E' chiaro che qui l'upgrade lo vedo sulla centrale, lo vedo al posto di Zeroli, al posto di Dovin. Ma abbiamo già visto che non possiamo upgradeare ulteriormente la porta. Johansson è rimasto un 74 e ha veramente poco senso andarlo a prendere. Quindi mi concentrerei più che altro sul centrocampo e difesa. La media overall si è alzata. Adesso possiamo andare ad acquistare fino a 79 di overall. Siamo ancora un po' indietro, eh. Dobbiamo pedalare. Siamo stati un po' sfortunati perché volevo rinforzare la difesa con Isaac Yen, che abbiamo imparato a conoscere anche con l'FK Lufoten. Non è che ci siano tanti difensori centrali svedesi nel gioco. È lui il prescelto per rinforzare la nostra linea. Però ha 80 di overall, quindi non possiamo ancora prenderlo. Chi possiamo prendere è Ugo Larsson. Centrocampista centrale che non prova dai tempi del Malmo, probabilmente. Serviranno 35 milioni più o meno per strapparlo al line track. Proviamo ad andare diretti così? Perfetto. Offerta accettata. Sono sincero, un po' mi dispiace dover sostituire Zeroli. Ma questa è la terza stagione e c'è bisogno di un upgrade importante nella squadra. Zeroli ha un anno in meno di Larsson e due punti overall in meno. Potrà comunque esserci super utile, ma Larsson è un'altra storia. Il problema ora è che Zeroli e Larsson hanno lo stesso ruolo squadra. Vediamo come riusciamo a gestirli. Per chiudere il calciomercato dunque andiamo a prendere un rinforzo come esterno d'attacco. Ovvero un mio grande pupillo, Jakubo Andrejka. In questo momento gioca all'anversa. 8 milioni per la squadra belga. Contro offerta a 9 milioni e 100 che accetto. Non è un acquisto sprecato eh. Avere un sostituto là davanti può esserci super utile. Allo stesso tempo ci dà la possibilità di sperare in una crescita maggiore da parte di Bartesaghi e Pellegrino. In modo che il prossimo anno possano essere ancora loro i nostri centrali titolari. Andrejka ovviamente verrà spostato ala di sinistra. Ci mette due settimane. Attenzione perché il finale di terza stagione potrebbe riservare una sorpresa. Siamo in finale di Coppa Italia contro la Roma. Andiamo a simularla subito. Questa è la formazione della Roma. Somorodov titolare. Va bene non facciamoci troppe domande. Questa è la nostra. Come potete vedere ci sono delle crescite interessanti. C'è chi invece ci sta un pochettino deludendo. Siamo pronti a simulare. Vinciamo i rigori. Bravi ragazzi. Chi ha segnato? Mamma Traorea al 76esimo. E Luca. Bravo Romero. A questo punto andiamo a concludere la simulazione della stagione. Parita contro la Lazio. Vittoria per 2 a 1. Quindi quando ci siamo classificati in campionato siamo in Champions. Grazie alla vittoria con la Lazio. No vabbè ragazzi. Non ci credo. Saremmo stati in Europa. Però stiamo crescendo alla grande. Porca miseria. Uh no no no. Va bene la Champions. Va bene la Champions. Sorpresa Dovin. 23 anni. 77. E non si è bloccato. Ci piace. Dal 83. Purtroppo Pellegrino e Bartesaghi. Un pochettino bloccati. Andremo a cambiare Pellegrino nel prossimo anno. Gimenez. 84. Pugolarsson 81. Ezeroli 78. Maldini devastante ragazzi. 12 gol e 15 assist. Ma anche Pontus Davo. A 20 anni è un 83. Traorea è diventato un 85. Romero un 88. Wilhelmson invece. Un 81. Più 4 punti overall. Con 15 gol all'attivo. Traorea 23 gol. Di cui 21 in Serie A. Che spettacolo. L'Astic in prestito al Bayern Monaco invece è diventato un 80. Ma punteremo ancora su Wilhelmson. Credo. Forse. La nostra media overall adesso è a 82. Ci possiamo permettere qualcosina di interessante. Ma è assurdo se ci pensate che Wilhelmson sia in nazionale. Anche Dabo. Anche Dovin. E non Dal. Ma perché non Dal? Chi ci gioca a sinistra nella Svezia? Anche un Dreykair è in nazionale. Ien è un 82. Quindi possiamo prenderlo. Possiamo procedere con l'acquisto. 29 milioni la nostra offerta. L'Atalanta ne vuole 32. E io glieli do. Mettiamo Ien qua. Che è in nazionale ovviamente. A questo punto l'ultimo acquisto che possiamo fare in questa quarta stagione potrebbe essere un trequartista di riserva. Perché al posto di Maldini e Dabo non c'è nessuno. Magari ogni tanto ci gioca Zeroli. Però comunque almeno un altro trequartista servirebbe. A meno che Zeroli non mi si trasformi in trequartista. E io vado a rinforzare il centrocampo con Svanberg. Ci mette 33 settimane. Non ne vale la pena. Guardate che offerta mi è arrivata per Maldini. Io non pensavo potesse crescere così tanto. Sono sincero. Il Chelsea arriva con 132 milioni. E noi potremmo chiederne 182. Clamoroso. Questi sono i centrocampisti che ho messo a seguire. C'è questo Svedberg che comunque mi sta chiamando da parecchio. Ma anche Agliari che mi ha in scadenza tanta roba. Ho paura però che non si possano trasformare come trequartisti. Io faccio una prova con Svedberg. Secondo me di base tutti e tre possono farlo. Ma anche Zeroli tecnicamente lo può fare. Nel frattempo il Monaco ha accettato 20 milioni. Eccolo qui il nostro Svedberg. Te prego mettici pochissimo. Due settimane. Mi fai godere amico. Mi fa anche un piccolo upgrade? No. Però è molto vicino al 78. Questa è dunque la nostra formazione per questa quarta stagione. Ma ci manca una cosa molto molto importante da guardare. Ecco il nostro generale di Champions con Leverkusen, Salisburgo e Beziktas. Posso dire che pensavo peggio. È vero siamo in seconda fascia però possiamo tranquillamente arrivare agli ottavi. Bene. La quarta stagione ci regala la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus. Alla grande. Non credo di aver vinto la Serie A e per quanto riguarda la Champions League vi devo parlare. Intanto siamo arrivati secondi. Siamo da 3 punti. 88 quelli del Napoli. Ah non riusciamo ad essere i migliori. Secondo me le seconde linee ancora non sono all'altezza. E vi dicevo per quanto riguarda la Champions League siamo passati come secondi dietro l'Everkusen. Quindi gli ottavi li abbiamo raggiunti. La finale di Champions League sarà tra Paris Saint-Germain e Manchester City. E indovinate noi contro chi abbiamo perso gli ottavi? Ovviamente. Il Manchester City. Ce la siamo giocata eh. Ma abbiamo perso. Questa è la nostra formazione. Ci sono state un po' di problematiche con Larsson perché sembrava giocasse Zeroli. E anche Bartesaghi non è cresciuto come speravo. Alla fine i più deboli sono proprio Dovin e Bartesaghi. E comunque Dovin fra due settimane diventa un 80. Bartesaghi invece ci mette 11 settimane per arrivare all'80. La quinta stagione sarà quella decisiva per la loro crescita. Traoré un 91 e Romero un 92. Non mi ricordo di questo 91 di Traoré. Uno dei migliori al mondo. Un pochettino deluso da Willemson. Posso essere sincero? Speravo potesse crescere di più. Ma che ne pensate? Di Giocheres. Siamo all'interno della quinta stagione. Quelle decisive. Come potete vedere il Manchester City ha vinto la Champions League. Quindi siamo usciti contro la vincitrice finale. Dobbiamo andare a fare la media della nostra squadra. Che comunque mi piace tantissimo. Sta crescendo bene. Possiamo acquistare fino all'86 di overall per quest'ultima stagione. Ce ne sono pochi di svedesi che hanno raggiunto quel livello eh. Ah! Ma come... Porco... Si sono fottuto. Mi sa che l'ultima stagione non riusciamo a farsela ragazzi. Però abbiamo questo obiettivo a lungo termine. Acquista tre dei migliori giocatori al mondo. 82 più. Mi mancano due giocatori. E ho una stagione rimasta. Quanti soldi abbiamo? 248 milioni. Ragazzi. Per il bene della challenge. Devo spingere. O si punta su Bargi. Che probabilmente è più forte anche di Kulusevski. Giocheres di sicuro. Ragazzi. Fa parte anche dell'obiettivo. Isaac non lo possiamo prendere. Perché è un 87. Giocheres invece è perfetto. Quanto gli offriamo ai Gunners? 90 milioni? Vogliono 56 più Larsson? No. Ne vogliono 99. Preso Giocheres. Questo è un gran colpo. Questo è un gran colpo. Di quelli che la Champions te la possono portare. Ma il cannibale mi cresce ancora? Beh. 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 A questo punto la scelta va su Bargi o Kulusevski. Il problema è che io posso fare solamente un altro acquisto. Quindi. Sì Bargi forse l'82 l'ha anche raggiunto. Ma per essere sicuro. Per andare sul sicuro. Kulusevski. Me lo porto a casa. 60 milioni. Dovrebbe essere in scadenza. Il Tottenham a Mazzetta. Io così però ragazzi l'obiettivo l'avrei fatto eh. Non ve lo vorrei dire. E tra l'altro ha anche una priorità massima. Quindi tecnicamente l'overo allenatore dovrebbe alzarsi. Tanta paura. Tanta paura. Ottimo lavoro. Attenzione. Oggi oggi oggi. Oggi non è per valutarmi. Valutatemi. Valutatemi ma con molta cautela. Sono ritornato all'interno del salvataggio. Non credo di riuscire a salvare la situazione. Ma almeno volevo vedere un pochettino. Giusto così al volo di statistiche dei miei ragazzi. Mi piacerebbe come detto provarli. Ma devo vedere se all'interno di questa quinta stagione. Riesco a tornare al Milan. Perché quel balordo di Zlatan Ibrajivovic. Io compro tutti gli svedesi. E poi mi tratta così a pesci in faccia. Per quanto riguarda Dovin. Almeno l'80 l'ha raggiunto. Non me la mento. Tale è diventato un 86. Una super crescita la sua. Gli dati sono anche migliorati. Quindi ben per lui. Sono un po' triste. Perché mi sarebbe piaciuto provarlo. Ecco. Sono un po' triste anche per la crescita di Bartesaghi. Perché speravo potesse fare meglio. Jimenez invece 88. Direi devastante. Anche se alcuni dati non sono cresciuti bene. Per quanto riguarda Maldini invece è diventato un 89. Davvero degli ottimi dati suoi. E Pontus Dabo. Che ha 21 anni e ha un 88. Anche lui ha alcuni dati non sviluppati. Però tanta roba. Giacca Traoré. 22 anni. 91 di overall. Spettacolare. Anche lui ha qualche dato non cresciuto benissimo. Ma lì dovevo lavorare forse meglio io. Con i piani di crescita. Anche per quanto riguarda Romero. Che è sicuramente più completo. Poi vabbè. Giocheres. Domanda. Quindi cosa faremo quest'oggi? Ci giocheremo contro. Non saremo noi allenatori del Milan. Ma lo sfideremo. Ma in tutto questo. La Champions League del Milan è continuata. Uh sì. Sono ai quarti di finale contro l'Arsenal. Questa è la formazione del Milan. Uh. Qualcuno è volato. Andiamoli a sfidare. Calcio d'inizio. Noi siamo il Frosinone. Abbiamo questa formazione qui. Spettacolare. Andiamo in campo sempre sul pezzo. E forza Frosinone. Che mi devo dire? Eccoci qua. C'è Ruffolini che parla da fatto su Ciacca Traoré. Eh ma è forte questo Milan ragazzi. È forte vero. Porca miseria. Abbiamo tirato su una squadrona. Non riesco neanche a capire da che parte vogliono andare. Porca miseria. Bravo Maldini qui. Uh. Provala. 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 Ma chi è sto pazzo? Ma chi è che ha fatto sto gol? Valeri. Mamma mia. No. Ma sta ripresa? Ma sta ripresa dai magazzini dello stadio? Beccati sto mancino Dovin. Mamma mia. È passato ancora Maldini. Il destro ancora di Maldini ragazzi. Siamo di nuovo sotto. Dopo 15 minuti abbiamo preso la doppietta da Maldini. Che è diventato fortissimo. Fortissimo. Uno contro uno su Gimenez. Di caso. Fumato caso. Fumato Bartesaghi. No. Cosa volevo dire? Fumato Gimenez. A parte il fatto che non mi è riuscito una frase decente in italiano. Abbiamo pareggiato. Uh. Mamma Dovin. Che parata. Non ci credo. Siamo avanti. Con Marvin Cioni. 3 a 2. Ma che partita è ragazzi? Che incornata. Se ne ha Traoré. Là. Che palla ha messo in mezzo Traoré. Porca boia col compasso. Mamma mia. Bellissima. Bellissima. Non ci credo. Ma io non ci credo. Ma però è una parità assurda. Bella la palla per Ghioceres. Bravo Cerofolini che ci tiene a galla. Tiene questa punizione. Maldini. Siamo al 77esimo. Si avvicina anche Kulusevski. Ma sembra voler andare Maldini. Così non è. Va Kulusevski. La poggia Traoré. Che chiude la partita. Mamma mia però. Come attaccano. Come spingono. Anche qui Dahl. Praticamente agiva da ala. Finisce qui. Perdiamo contro un ottimo Milan. Che forse dietro qualcosina da desiderare ancora l'ha lasciato. Però insomma. Abbiamo creato veramente una bella potenza. Un gran peccato non poterli provare. Guardate qui che voti. 3-10 addirittura. Vabbè d'altronde. Due gol. Un assist. Un assist. Due gol. Due gol. Un assist. Il Milan continua a rifiutarmi. Proprio Ibrahimovic non ne vuole più sapere. Eppure tra gli incarichi il Milan continua ad esserci. Eccolo qua. Ma non c'è niente da fare. Continuano a rifiutarmi. Arriviamo alla fine della stagione. È inutile continuare a perdere tempo. Il Milan è campione d'Italia. Abbiamo costruito una squadra che alla quinta stagione è andata a vincere il campionato. La Champions League invece non è in finale. Ha perso in semifinale contro il Real Madrid. Un po' godicchio se posso dire la mia. Andiamo a vedere la formazione con Dovin che è rimasto un 80. Bartesaglio 79. Dale è diventato un 80. Ah c'è Ien. Porca miseria. Dale 88. Gimenez 90. Qui a centrocampo anche Hugo Larson c'è ancora. Poi Maldini 90. Svedberg 81. Zeroli 81. Qua davanti invece. Gjokeres 86. Kulusevski 87. Ondrejka 77. Luca Romero 92. Chagatore 94. Porca puttana. Alla fine dunque manca solamente Pontus Dabo. Al Lipsia 22 anni 90. Di overall 141 milioni di valore di mercato. Giocatore spettacolare. Amici del Milan ho fatto di tutto per provare a portare la vostra squadra sul tetto d'Europa. Ma i poteri forti non hanno voluto. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.